Sono Laura Antichi, vi presento Mentimeter, molto utile nelle presentazioni partecipative per realizzare brevi inchieste e sondaggi in tempo reale. Serve per verificare la comprensione, per conoscere le opinioni del pubblico e degli studenti su quello che si sta facendo. Permette ai partecipanti di dare le loro risposte anche da mobile. È possibile la condivisione nei social e di embeddare nei siti il grafico delle risposte. È un'applicazione molto coinvolgente, qui la presento nella versione free. Bisogna registrarsi e una volta fatto ciò si fa login e si entra nell'applicazione. Vado in new presentation, darò un nome alla mia presentazione, esempio, parteciperai al prossimo webinar. Create presentation. E qui ho la possibilità di scegliere tra le risposte multiple, scegliere le immagini, contribuire alla creazione di uno cloud, quiz, scale, open-ended, eccetera, eccetera. Vedremo alcune soluzioni che ci possono tornare utili per la classe. In questo caso utilizzerò multiple choice e vedete che qui parteciperai, metto la mia domanda, parteciperai. La prima option potrebbe essere sì, la seconda no, la terza forse. Potrei aggiungere altre possibili opzioni di risposta. Poi mi chiede se voglio vedere in percentuale i risultati di questa question o se voglio permettere ai partecipanti di votare più di una opzione. Clicco su show result in percentuale della risposta. Ok, ora come potete vedere mi dà un codice, quindi gli utenti si collegheranno dai loro dispositivi a www.menti.com ed useranno il codice 1139.91 per poter votare. Mi sono collegata quindi a menti.com, inserisco il codice che serve poi agli utenti per l'accesso. Faccio subito, faccio subito e voterò sì, subito e se l'utente vuol vedere i risultati dovrà cliccare qui e gli sarà mandata una mail. Questo è il primo risultato del sondaggio, è chiaro la risposta era una sola, ma poi alla fine del sondaggio, quando tutti parteciperanno, avremo la possibilità di visualizzare il grafico. Posso condividere i risultati con la share, come vedete questo è il link, potrei mandare ai partecipanti il link, posso condividere in Facebook e in Twitter questo link. Potrei vedere gli altri risultati della domanda e potrei anche embeddare i risultati nel mio sito, nella mia pagina web. Ora voglio realizzare un altro sondaggio che intitolerò le tue domande. In questo caso vorrei utilizzare le domande aperte, ossia le open-ended domande. Invece di open-ended metterò, scrivi la tua domanda. Posso anche spuntare Hello audience to submit more than one, once, di sottoporre una ulteriore domanda. Anche in questo caso mi dà il codice, perché gli utenti possono connettersi a menti.com per rispondere. Le risposte dovranno essere contenute in 140 casi. Ora vediamo, mi sono collegata a menti.com, metto il codice che avevo detto, ossia 92 60 84. Faccio submit e qui vedete che mi permette di ascrivere la mia domanda. Ad esempio, come costruire i gruppi di lavoro. Vado in submit e mi dice se voglio mettere una nuova question. Adesso mi limito a questa, submit. Ecco. Ok. E ora vedete che in menti meter mi compare la domanda che mi è stata fatta dal l'ipotetico utente. Ora vi illustro un'altra possibilità. Vado in new presentation, che chiamerò parole chiave. Create presentation. Ok. Quindi scelgo Word Cloud questa volta e le risposte degli utenti mi permetteranno di costruire la nuvola delle parole chiave. Quindi chiamerò your question, scrivi, ad esempio chiederò, scrivi, la mia domanda sarà, scrivi, tre parole chiave del corso. Mi dice quanti voti possono dare, quante parole chiave possono scrivere, metterò, posso cambiare, delle due o di più, metto tre e quindi ora vado a verificare cosa succede. Mi collegherò sempre a www.menti.com e userò il codice 9926. Ecco, mi sono collegata, sono pronta per aggiungere il codice di accesso che è 9926. Faccio submit e vedete che ho tre parole chiave, potrei scrivere EAS, cultura partecipativa, potrei scrivere cultura convergente, submit, ok, e qui ha il codice di accesso che è nel solito modo, mi dice che se voglio vedere il risultato dei voti, devo cliccare e mi manderà per me il link. Ecco, come vedete la nuvola si va a definire, naturalmente qui ho solo un'unica risposta, ma alla fine con il contributo di tutti si costituirà un word cloud che mi permetterà di vedere le parole chiave del corso, come sono state pensate dagli utenti dal basso. posso naturalmente creare altre tipologie di indagine con new question, posso creare ad esempio un quiz, create presentation e vedete che ho qui la possibilità di cliccare su quiz, metterò il nome del quiz, nome del quiz e sceglierò, metterò delle opzioni di scelta, quindi delle possibili risposte e spunterò la risposta giusta con la casellina verde e con la spunta bianca. Buonasera a tutti e spero che vi sia stato utile.